Stamane la Sala del Vascello del Comune di Riposto ha ospitato la conferenza incontro 1946-2016, 70 anni di diritti acquisiti. Relatori grazie a giurato, storico della problematica femminile e la docente Anna Castiglione. All'incontro moderato da Rosalba Longhitano, responsabile ufficio cultura, hanno preso parte anche il sindaco di Riposto Enzo Caragliano e l'assessore alla cultura Gianfranco Papalardo Fiumara. La donna è al centro del sociale e della società, ha avuto riconosciuto tardivamente questi diritti che secondo me hanno dato già da tempo, perché la donna, poco fa lo dicevo, con la sua sensibilità, con il suo istinto, riesce molto oltre, anche nelle piccole cose da lì si vede la potenzialità, che con un mondo oggi che va in crisi, le donne si obbarcano benissimo e stanno portando avanti una famiglia con piccole risorse, ma dando grandissime energie. E quindi significa che è un mondo che va non solo valorizzato, ma soprattutto potenziato e fatto partecipare a piena mano a tutto quello che... Questo in Italia credo che si è fatto, perché la democrazia l'ha dimostrata ampiamente, ancora ci sono larghe parti del mondo che tal ruolo non lo riconoscono. Oggi la giornata delle donne, che è una commemorazione di una data importante, non deve essere una festa, deve essere più che altro il riflettere su ciò che si è conquistato. I 70 anni di diritto al voto delle donne è una conquista, che dagli anni 46 fino al 1970, passando per il 50, passando per tanti deputati, ecco, donne che si sono battute per l'acquisizione dei diritti, ha dato il frutto appunto di una parità di condizioni. Dovrebbe essere tutto l'anno l'8 marzo, perché non si può parlare di argomenti così importanti come quelli che sono legati, che trascendono da quello che è il discorso 8 marzo, parlare un giorno, perché i problemi che riguardano la famiglia, la società, l'uomo, la donna, non sono una questione giornaliera di una data, ma sono i rapporti quotidiani anche. Come ci comportiamo, come io, donna, mi rapporto con un uomo, come un uomo si rapporta con una donna, sia a casa, sia sul luogo di lavoro, sia nella società, sia nella scuola, dappertutto. E anche le leggi che esistono, che per troppo tempo, per troppo tempo, non hanno riconosciuto alle donne quei diritti di cui erano, come dire, come persone, come individui che avevano diritto a quelle che erano questi riconoscimenti. Non perché io già da quando si nasce abbiamo la nostra dignità, non me la dà una legge, non me la dà il Comune, non me la dà lo Stato. Io ho la mia dignità.